Siamo nel quartiere di Borgarino a Canicattì in via Picco della Mirandola. Alcuni residenti della zona ci hanno chiamato per far vedere quello che sta succedendo in questo quartiere dove alcune case si sbricionano, sono cadute già da tempo. L'ultima data di maltempo c'è stato anche un altro crollo. Il comune, i vigili del fuoco, come state vedendo, hanno transennato la zona. Il comune deve provvedere a fare un'ordinanza di sgombero e quindi anche di demolizione di questo immobile che è pericoloso, invece ad oggi non è stato fatto nulla. Adesso sentiamo anche cosa ci dicono i residenti della zona. Giovedì scorso è caduta quest'altra casa. Sono venuti i vigili del fuoco, i carabinieri e tutti passano la palla. Sono andata pure al comune, dall'ingegnere, ma hanno detto che aspettano i proprietari. Ma non possiamo attendere oltre perché come vediamo ci sono diverse crepe. Avendo i bambini e i piccoli siamo privi di uscire di casa. Oltre a questa casa è caduta pure in un'altra via qua vicino che mi dà nella camera da letto. È da tre anni che ho fatto la denuncia e nessuno è venuto. Sono venuti tre anni fa vigili del fuoco, carabinieri e vigili urbani. È da tre anni che non si vede più nessuno. E qua non possiamo attendere altri tre anni. Lei naturalmente ha fatto tutte le denunce possibili e immaginabili. Qui abbiamo anche la documentazione. Però cosa le rispondono quando lei si rivolge agli uffici comunali? Che c'è tutta una prassi da attendere, che devono cercare proprietari. E i proprietari qua non ci sono, non si vedono. E quindi noi siamo sempre in attesa di qualcuno che passa la palla al comune, al sindaco. Il sindaco proprio si disinteressa di Borgalino. Per ora si occupa della spazzatura. Ma io credo che sia più importante la nostra incolumità, non la spazzatura. Passa in secondo piano. Perché qua c'è il rischio che ci muore, ci scappa il morto. Naturalmente questa è una zona dove abitate famiglie giovani. Ci sono molti bambini che vengono lì a giocare, sentono uno spazio comunque all'aperto. Perfetto. I miei figli giocavano là. Adesso non possono nemmeno uscire nel terrazzino. perché ho paura che questa casa da un momento all'altro può crollare. La ritrovate dentro casa, diciamo. Perfetto, perfetto. E qua ci ha salvato la ringhiera, che c'era una ringhiera. E quindi i massi si sono bloccati nella ringhiera. Se non c'era questa ce l'avevamo pure a casa. Vuole fare un appello a qualcuno? Al sindaco che si interessi e che faccia una cosa sull'immediato.